Numeri abbastanza incredibili, ore e ore e ore di lettura, tanti volontari, 700 i lettori per leggere tutta la Bibbia integralmente. Magari non ci si crederebbe in una metropoli così veloce come Milano, però si fa. Sì, beh, quello che si crede a Milano di spesso è una lettura molto superficiale di come è la gente e quindi non è che mi impressiona tanto. Ecco, sono contento però che questa esperienza sia stata frequentata e apprezzata. Mi pare che questa sia una dimostrazione che la Bibbia è il libro dell'Occidente, è uno dei libri dell'Occidente di cui non si può fare a meno se si vuole capire la nostra civiltà, le nostre speranze, la nostra storia e il nostro futuro. Quindi sono contento che sia stata letta integralmente. Ecco, evidentemente la lettura è un inizio perché il testo è antico, è complesso, è misterioso e quindi non basta la lettura, però certo il primo passo è sempre soltanto cominciare a leggere il testo.